Benvenuti. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Costume Società all'interno di Brandano, le voci della città. Oggi sono felicissima di ospitare una ragazzina perché sembra veramente una bambina, in realtà a 19 anni, Esther Azzara, una giovane amazzone. Sta brillando in questo periodo come risultati nelle varie competizioni. Racconteremo un po' la storia di Esther, la sua passione grandissima per i cavalli, perché del resto poi per gareggiare, e ce lo confermerà Esther, ci vuole una grandissima passione, fin da piccolissimi. E quindi andiamo a conoscerla meglio. 19 anni, iscritta alla facoltà di economia, proprio da pochissimo, da quest'anno, da un anno. Però una grandissima passione per i cavalli che parte Esther da lontano. Una passione trasmessa, mi dicevi, fuori onda dal tuo nonno. Addirittura te hai iniziato a 5 anni. Sì, 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 è la prima volta che ho montato un pony, avevo 5 anni. E quindi questo nonno ha detto, ma portiamo questa bambina a cavallo. Sì, da bravo senese era appassionato del paleo e poi io ho sempre avuto la passione per questi animali, fin da quando ero proprio piccola. E allora provò a portarmi a montare e da lì, vedendo anche le persone più grandi che saltavano, galoppavano, allora mi sono appassionata anche al salto ostacoli e poi solo dopo alle gare. E lì ci arriviamo, piano piano, perché è affascinante questa storia che uno così piccolo possa montare a cavallo. Non tutti scegliono questo sport, a Siena diversi, devo dire, probabilmente c'è un po' nel DNA, però si può iniziare veramente da piccoli. Esther ha iniziato a 5 anni, per cui immagino all'inizio siano passeggiate un po' più, no? Sì, sono solo passeggiate. Poi soprattutto è l'iniziare ad avere un rapporto con i primi cavalli, i primi poni, che erano veramente piccolissimi, sì. Anche se ero sempre molto più piccola di loro, anche quindi. Però poi piano piano, no? È proprio accarezzare, stare proprio nell'ambiente. Diciamo che da lì ho iniziato ad amare anche l'ambiente dell'ippica e dell'equitazione, sì. Ovviamente per poter fare una cosa così ci vuole o un nonno, come quello di Esther, che ha una grande passione, oppure un genitore che comunque accompagna il bambino, ma poi comunque il ruolo dei genitori Esther è fondamentale, no? Sì, io se non avessi la mia famiglia non sarei ancora qui, non sarei a montare a cavallo. Sì, e soprattutto mia mamma, mia nonna. Mia nonna fin da quando mio nonno non c'era più ha iniziato ad accompagnarmi, a darmi una mano a sellare i cavalli, perché non ci arrivavo, ero troppo piccola. E davvero mi ha sempre seguito, io penso soltanto una o due gare si sia persa lei. E poi ti ha sempre seguito, viene sempre con te. Sì, lei mi accompagna sempre, mi dà sempre una mano, è sempre vicino a me, è sempre a vedere le mie gare, a fare i video. Io, sì, è la prima sostinetrice. La tua prima tifosa, la tua prima tifosa. Anche mamma e babbo, anche pur lavorando, sono sempre disponibili per qualsiasi cosa. Insomma, si ritagliano degli spazi per seguirti. Per cui, fin da bambini, quando si inizia ad andare a cavallo e si va nei poni, chiaramente, perché uno può montare un cavallo grande, però già si accudisce anche il cavallo. Non è che altri te lo preparano, te lo prepari da solo. Sì, dipende, ecco, dipende dalle situazioni, però io ho sempre pulito, ho sempre adorato pulire, accarezzare, stare insieme, ecco, ai cavalli proprio. È stato questo a spingermi poi a iniziare a fare le gare, proprio al voler stare vicino al cavallo. Prendersi cura di lui, perché la simbiosi, chiaramente, fra il soggetto, cavaliere o amazzone e il cavallo, deve essere una simbiosi totale, no? Sì, io adoro passare il tempo con i miei cavalli, adoro poter sviluppare un rapporto con loro. Il primo degli obiettivi è che quando arrivo mi nitriscano, mi riconoscano e che mi abbraccino. No, io adoro proprio che loro abbiano un rapporto con me, a prescindere da... Perché chiaramente dal rapporto, cioè, te hai questo rapporto di amore verso di loro, ma loro ti ricambiano. Le gare comunque si è sempre in due, non è solo, anzi, soprattutto sono loro i protagonisti delle gare, non noi che li montiamo, quindi ti devono dare una mano, soprattutto, e te devi essere rispettoso nei loro confronti. È un rapporto di fiducia reciproca, possiamo dire. Decisamente, è necessaria la fiducia reciproca. Quanto è difficile avere un rapporto così di fiducia, soprattutto quando uno è bambino? Eh, allora, dipende, quando non si ha un cavallo proprio, comunque, cioè, è abbastanza difficile, però basta soltanto passare del tempo insieme, è proprio nella persona, ecco, è proprio nella passione, nel voler ravvicinarsi ai cavalli. Non lo sentono questa cosa. Certamente, sì. Come tutti gli animali del resto. Bellissima questa cosa, devo dire che mi affascina, che così piccolina tu abbia iniziato, come, ripeto, ce ne sono tanti, poi molti seguono altri sport, no? Però, a Siena, sono tanti anche i bambini piccoli che iniziano, poi magari... Sì, ci sono diverse discipline, comunque, non c'è solo il salto stacoli, spesso ci sono i giochi pony, che sono soprattutto per i bambini, ecco, sì, quindi ci sono discipline per ogni età, ecco. Quindi uno si approccia alla gara in maniera diversa, giocando, e poi piano piano si abitua anche a... Ad altro, certamente, sì, sì. Intanto cominciamo a vedere, bravo Leo, grazie, un po' di immagini di Esther a cavallo. Devo dire, io ho visto alcuni dei video che hai pubblicato te o che ha pubblicato Barbara, la tua mamma, e devo dire che è emozionante, perché comunque il salto stacoli è veramente bello, elegantissimo. Ci sono, chiaramente, poi arriviamo a come ti sei approcciata quando hai iniziato a fare il salto stacoli. Ci sono categorie diverse, no, a seconda dell'età? A seconda più che altro dell'altezza dei salti, l'età è un po', dipende, troppo piccoli non si può fare gare troppo alte, però comunque l'età è soggettiva, è l'ultimo dei requisiti, ecco. Però ci sono gare brevetti, gare primi gradi, che è quello che sono io, e gare secondi gradi, che spererei di riuscire ad arrivarci. Ci sono un po' vicina, ma... Insomma, c'è da lavorare. C'è da lavorare ancora, decisamente. Gli ostacoli che tu salti adesso quando fai le gare, quanto sono alti? Un metro e trenta, un metro e trentacinque. Quindi i cavalli questi sono cavalli adulti, grandi? Sì, sì, sì. Tranne uno che è un puledro di cinque anni, però le gare con i puledri si possono fare soltanto dal primo grado in su, non si può... Non si può fare prima. E quanti ostacoli ci sono in un percorso completo? Dipende, dipende perché ci sono delle gare a tempo, che sono all'incirca sui 10-12 salti, delle gare a fasi, in cui i salti sono anche 13, e delle gare miste, che sono formate da due percorsi, il primo all'incirca di 10-11 salti, e il secondo un barrage, che sono sui 6-7 salti, soprattutto in velocità. Qui dove siamo? Qui siamo ad Arezzo, è un percorso, un metro e trenta, di un concorso nazionale, di penso all'incirca un anno fa, poco prima, subito prima, questo è l'ultimo percorso che ho fatto prima della quarantena. E sì, è un percorso a fasi questo, con il mio cavallo, Artos. E quindi, cioè, il cavallo è tuo, immagino che il rapporto sia straordinario. Sì, il mio è, con lui soprattutto, perché è un cavallo particolare, è molto affettuoso, è proprio come se fosse umano, ecco, perché lui davvero, con lui ho avuto un rapporto di feeling da subito, appena proprio abbiamo, ci siamo incontrati. Ci siete riconosciuti. Nella scuderia, sì, 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 sì. Bello. Invece qui monti un cavallo bianco. Sì, questa è la mia ultima cavalla che ho comprato dalla Francia, si chiama Elou, ed è appunto una femmina, è arrivata ora a settembre scorso, ed è un percorso di due, tre settimane fa, all'incirca, di un metro e trentacinque. Quindi più alto, come tipo di ostacolo. Sì, ed è la gara più alta che ho fatto, sì. Infatti ero molto emozionata qui, si è visto che quasi stavo volando lì sotto. In effetti, nell'altra gara sembri più tranquilla, più padrona della situazione. Ancora non abbiamo un legame troppo forte, però perché è molto spaventata, lei è un po' paurosa, ha un po'... Poi è femmina, quindi ha un atteggiamento un po' diverso, ecco, siamo un po' più simili. Però sì, piano piano anche lei si sta ambientando e sta cercando di superare un po' le paure anche. Senti, come si abitua un cavallo a saltare gli ostacoli? Non è una cosa semplicissima, immagino. Allora, ce l'hanno già di base comunque tutti i cavalli praticamente, però in base un po' a come sono, la genealogia, i mezzi che hanno, si inizia da quando hanno all'incirca 4 anni, iniziano a saltare, a fare i primi salti e piano piano si cerca di fare un approccio più delicato possibile, ecco, per non essere troppo intrusivi. E poi fanno un po' tutto da soli. Ecco, perché il rischio, e alcune volte si vede, no, in alcune gare, ma anche gare importantissime, questi cavalli che si bloccano davanti allo stacolo e non c'è il verso, no? È spesso, sì, è successo spesso anche a me, sì, per molti anni. Come reagisce? Cioè, voglio dire, quando succede una cosa così che, insomma, chiaramente, a parte rovinare la gara, ma quella è la meno, questo blocco totale del cavallo che si rifiuta di saltare, come si fa? Eh, con tanto tempo e tanta pazienza, sì, però ci sono molte, molte cause che possono portare a una cosa del genere, quindi si agisce in modo diverso, però comunque con pazienza e con esercizio, soprattutto tanto allenamento, piano piano... Può dipendere dal cavaliere o dalla mazzone che c'è sopra? Sì, sì, certamente, sì, sì. Che magari in quel giorno un po' più, si è svegliato un po' più storto? Sì, ma certo, poi i salti comunque, i percorsi sono comunque l'uno diverso dall'altro, quindi non è sempre detto che vada bene, ci sono degli imprevisti, si può sbagliare, non c'è la certezza assoluta della perfezione. Di riuscire a far tutto, però devo dire che è molto affascinante, abbiamo visto le immagini, quelle con la femmina, con la cavalla bianca e quella che hai nel profilo di Facebook. Sì, sì, sì. C'è questa foto bellissima, loro due in volo, stanno volando, perché la foto è stata scattata proprio nell'attimo del salto con la cavalla bella distesa. Sì, lei ha anche un modo un po' particolare di saltare, salta con la testa molto alta. È molto elegante, devo dire, è molto elegante. Allora, noi ci fermiamo un attimo, facciamo un po' di pubblicità, poi torniamo a raccontare la storia di Esther, la giovanissima Amazzone, ospite oggi dei nostri studi e del suo rapporto con i cavalli e questo salto ostacoli bellissimi. E parlavamo con Esther proprio dell'eleganza di questa cavalla bianca, ma devo dire anche l'altro è molto, molto elegante, perché il salto ostacoli nell'ippica è veramente una disciplina molto elegante. Sì, anche da come è il cavaliere, deve avere una camicia, comunque con il colletto bianco, una giacca, pantaloni bianchi, comunque anche per prepararsi alla gara deve essere tutto pulito, tutto molto preciso. Elegante. Uno va veramente a fare, ora uso un termine improprio, ma va veramente a fare una sfilata, no? Perché è l'apoteosi dell'eleganza. Una domanda mi viene spontaneamente, parlando proprio dell'abbigliamento del cavaliere e dell'amazzone. Fate anche le prove vestiti in quel modo oppure lo utilizzate solo in gara? Nel senso, un conto è andare con una felpa a cavallo, no? Il tipo di libertà. E' un conto, eh, doversi mettere la camicia, la giacca, che poi la giacca è piuttosto stretta. Insomma, per abituarsi a quel tipo di abbigliamento, ti alleni anche vestita così o no? Allora, non vestita da gara, perché comunque le leganze sono vestiti molto, vanno messi da parte, però pantaloni stretti, comunque tutti i pantaloni per montare a cavallo sono stretti, le magliette comunque troppo larghe, sono scomode. Uno si abitua anche a stare in questo abbigliamento, perché credo che poi l'approccio a una gara per cavalieri e amazzoni così giovani, poi c'è l'attenzione della gara, non sapere se il cavallo risponde bene. In più, se devi anche pensare al figliamento, che stai stretto e non puoi fare i movimenti, credo che sia, no? Una tensione in più. Ma infatti di solito le cose da gara si rinnovano sempre a casa, almeno una volta. Ecco, perché almeno uno ci si sente, no? Anche perché poi non puoi ingrassare nemmeno di un grammo o perdere un grammo, perché deve stare molto preciso. Senti, ti ricordi la prima gara che hai fatto nel salto agli ostacoli? Certamente. Chi se la scorda? No, quella non se la scorda nessuno. A che anni avevi? Avevo otto anni, nove anni all'incirca, sì. Quindi eri sempre con i pony? Sì, però era il mio pony. Ah, ok, quindi già cambiava la situazione. L'avevo preso da poco, tra le altre cose, e era un pony un po' esuberante, ecco. Cascavo all'incirca sette, otto volte a lezione di media, e avevamo una paura assurda, e invece mi ricordo che arrivai in gara e fu bravissimo, era proprio professionale al massimo. E' lui che ti ha dato sicurezza a quel momento. Sì, sì, sì. Ti ha fatto passare la tensione. Sì, sì, decisamente. Il rapporto che dicevo all'inizio, questa fiducia reciproca che ci deve essere tra il cavallo e l'amazzone, in questo caso, o comunque il cavaliere, è fondamentale, perché in un momento puoi dare te, no, quello sprone in più al cavallo. Qualcosa a lui, in un momento è lui a dare una mano a te, certo. Questa prima gara, mi interessa questa prima gara, questa prima gara che avevi, otto anni abbiamo detto. Sì, otto, nove anni. Otto anni. Dove fu fatta? A Pistoia, a Groppoli. Quindi, il tuo esordio in assoluto, la tensione, la paura, cosa c'era, un po' un misto? Allora, tensione sì, sicuramente, però paura no. Io, paura dei cavalli e delle gare è difficile che ce l'abbia avuta. Questa è importante, eh? Sì, solo purtroppo dopo incidenti o così, all'inizio è difficile ripartire, ecco, però paura dei cavalli no, non ce l'ho mai avuta quello. E soprattutto non delle gare, perché l'ho sempre vissuta un po' come qualcosa in più, ecco, qualcosa in più rispetto agli allenamenti. Ecco la foto che stavo dicendo, è questa. Eh sì. Guardate che meraviglia che è questa fotografia, presa proprio nell'attimo del volo. Devo dire che è fantastica. Beh sì, è stato sempre qualche settimana fa e era la prima volta che facevo una gara outdoor, quindi fuori, con questa cavalla e è stata veramente bravissima. Sembra che salti molto più alto dell'ostacolo. Beh sì, lei è molto scenografica, ecco, su questo. Gli piace esagerare. Gli piace mettersi un po' in mostra. Sì, sì, sì. Ha il suo bel caratterino da principessina, no? Eh, questo è un po' la caratteristica di Artos invece, che prima di tutte le gare nitrisce, prima di partire, appena sente la campana, nitrisce e poi parte. Come per dire sono pronto. Sì, come per dire ora parto io. Guardatemi tutti che io parto. Ora parto io, infatti questa gara dopo l'ha vinta. Eh, perché era pronto. Eh sì, d'altra parte anche loro. Si sentiva pronto, sì. Si sentiva pronto. Allora, continuando un po' a raccontare la storia di Esther, noi continuiamo a vedere queste immagini bellissime che ci affascinano. Lei è iniziato, è montata a cavallo nei poni a cinque anni, accompagnata dal nonno. Il nonno sarà stato soddisfattissimo. Sì, sì, sì. Perché si è appassionata. Ma sicuramente lo sarebbe anche ora, sono sicura. Certo, sempre di più. Ma lo sarà, lo sarà sicuramente perché ti segue anche se non è... E quindi, inizi a cinque anni con i poni, eccetera, abbiamo sentito l'approccio, diciamo, con il salto ostacoli e arriva intorno ai sette, otto anni. Sì, sì, sì. Perché gli ostacoli? Perché hai scelto gli ostacoli? Incoscienza, forse. Forse? Potrebbe essere? Eh, sì. Non lo so in realtà, però mi affascinava vedere anche le persone più grandi che montavano più tempo di me nel maneggio saltare, continuare a stare tra i cavalli. Diciamo che è stato proprio per continuare ad avere cavalli. È stato proprio un continuo, ecco. E, ecco, questo è il mio puledro, che ti dicevo prima. Ah, quello che dicevi prima. Sì, cinque anni e questa era la sua prima gara. Sembrava ridesse qui. Sì, ma poi allo sguardo di sfida. C'era questo sguardo. Allo sguardo di sfida. Eh, vedi che meraviglia. Questo diventerà un gran cavallo sicuramente. Sì, sì, io ho sempre... mi è sempre piaciuto poi vedere le gare di salto nella televisione. E quindi ho deciso di provare, ecco. È stato un percorso, esatto. Quando ho provato, all'inizio non è andata proprio bene, però poi piano piano, con la perseveranza, i risultati un po' arrivano. Ci vuole carattere, eh, a fare queste cose. Sì, sì, beh, a volte ho avuto qualche ripensamento, qualche voglia di smettere. Momenti di crisi ci sono stati. Sempre, in continuazione. Tipo quando cadi oppure anche i momenti normali? No, proprio in base un po' a come vanno gli allenamenti, a come vanno i cavalli. Cioè, se vedi comunque che non rispondono troppo bene. Che demoralizzo un po'. Che succede qualcosa, sì. Però, non lo so, ho sempre trovato la forza di ricominciare, ecco. Oppure non ho trovato la forza di smettere. Non lo so tra le due qual è, però... Comunque sono contenta di continuare, per ora almeno sì. Senti, quanto ti alleni per riuscire... Io ho detto all'inizio in apertura che stai brillando, no? In diverse competizioni, quindi stai avendo dei risultati importanti. Quanto ti alleni per quando hai una gara? Oppure in tempi normali se non sei vicino a una gara? Allora, le gare ci sono praticamente sempre, ogni 15 giorni, all'incirca, ogni un mese, così. Però tutti i giorni, ho allenamenti tutti i giorni. Poi avendo tre cavalli, diciamo che mezza giornata è passata tutta al maneggio. Poi ci sono allenamenti più intensi, magari qualche giorno invece che sono allenamenti soltanto di lavoro in piano. Quindi passo, trotto, galoppo, un po' di lavoro in distensione per rilassarli anche loro, perché non possono solo saltare. Il mio programma di lavoro? Il mio istruttore. E diciamo insieme, ecco, ci mettiamo d'accordo un po' così, un po' in base ai cavalli anche alla giornata che hanno. E poi come scegli di, non lo so se è una scelta tua, di gareggiare con un cavallo piuttosto che un altro? Allora, di solito, ultimamente, da quando ne ho tre, gareggio con tutti e tre. Sono comunque cavalli tutti pronti per delegare. Poi in base un po' a come vanno gli allenamenti anche in casa e soprattutto allo stato di salute, ecco, quello è la cosa principale. Però quando sono pronti e quando sono in forma, così, vanno sempre in gara. Diciamo che è il loro lavoro, ma soprattutto è anche una loro passione. Sono cavalli comunque fatti per questo e che hanno piacere ad andare in gara e a lavorare, perché sono fatti così. Arthos poi, se non va in gara... Se non va in gara, dà fuori di testa. Si arrabbia, sì, sì. E devo... voglio raccontare un retro scena piccolino, quando l'ho chiamata, mi sembra, la settimana scorsa. Sì. Ci avevamo sentite, le ho telefonato, gli ho detto, Esther, ti disturbo? No, no, sono a cavallo. Dico, ti richiamo? No, no, sono a cavallo. Perché, voglio dire, per lei è come camminare, no? Sì, ero appena montata e stava passeggiando, si rilassava un pochino, almeno ci rilassavamo in due. Esatto, proprio come se fosse la cosa più normale del mondo e per... E' più normale che camminare, perché è più facile che cada ultimamente camminando. Senti, la tua caduta più, chiamiamola rovinosa, o comunque che ti ha un po' spaventato, anche perché si cade da cavallo. Sì, sì, in continuazione, quello è da mettere in conto, però quella peggiore, penso, è stata poco dopo aver preso la mia cavalla, quella grigia, era a settembre, l'inizio, fine settembre, inizio ottobre, dove ho battuto la testa e probabilmente il cavallo era scivolato e mi era cascato addosso e non mi ricordavo... poi io ero rimontata tranquillamente, avevo rimontato un altro cavallo, però poi avevo iniziato a perdere la memoria e a scordarmi tutto quello che era successo nella giornata e lì ho avuto un po' di paura, sono stata qualche giorno senza camminare troppo bene e sì, per rimontare lì e per risaltare un po' mi ha provato, ecco sì. Sì, però Arthos mi ha dato una mano, ecco. Ti ha aiutato? Sì, 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 lui in primis mi ha aiutato. Perché poi dicono tutti che la cosa fondamentale è se cadi, un po' come in tutte le sfere della vita del resto, però anche a cavallo, se cadi devi rimontare subito. Sì, 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 decisamente. Perché altrimenti ti entra questa sorta di non tanto paura ma un po' di ansia che poi il cavallo sente, no? Sì, sì, è comunque importante avere il coraggio di continuare, ecco, quello sì. Poi la paura a cavallo è difficile da gestire, quindi si deve essere anche abbastanza sicuri di quel che si vuole e quel che si fa, però io non avevo nessun dubbio, ecco, nel senso... Sapevi che saresti rimontata? Certamente, anche se ho dovuto aspettare un mese, però sì, non è... Sapevi che saresti rimontata? Tutti i giorni io sono ritornata dai cavalli, tutti i giorni sono andata a passeggiarli quando potevo, oppure nonna li passeggiava, io li accarezzavo, quel che potevo fare... Comunque stavi... Stavo nell'ambiente, sì, ecco. Ci fermiamo ancora qualche minuto per la pubblicità, poi andiamo, credo, verso la conclusione di questa puntata, io starei ore a farmi raccontare queste cose, a vedere queste immagini, ma noi ci fermiamo solo un attimo. E abbiamo parlato anche delle cadute, perché andando a cavallo succede di cadere poi con gli ostacoli, credo che non sia una cosa semplice, insomma, penso che le cadute siano abbastanza frequenti. Sì, sì, decisamente, però è importante rimontare, appunto. Rimontare subito e comunque rimanere... Bisogna essere un po' testardi, ecco, per fare questo. Un po' come i cavalli che sono testardi. Sì, sì, sì. Bisogna un po' somigliare. Bisogna un po'... E chi non somigliare? Mettersi a loro pari, ecco. Esatto, esatto. Io volevo un po' capire da te, tu hai fatto un accenno quando vedevamo uno dei filmati, che è stata l'ultima gara che hai fatto prima del lockdown. Chiaramente qui si sta all'aperto, no? Con i cavalli, per cui forse hai potuto continuare ad allenarti e la tua attività, però questo, soprattutto i primi mesi, l'anno scorso di lockdown, ormai siamo a un anno, no? Facciamo questo anniversario tragico, dall'inizio... Ci siamo abituati, ecco, alla nuova... Però come hai gestito? Non c'erano le gare, potevi allenarti? I primi mesi no, per qualche settimana sì, ma poi dopo ci avevano chiuso tutti quanti, potevano andare soltanto gli addetti, quindi coloro che lavoravano dentro il maneggio proprio, e basta. Però è stato, diciamo, all'inizio è stato un po' difficile, ecco, riprendere i ritmi, riprendere un po' anche la routine, ecco, diciamo. Io mi ero dimenticata proprio come si stava su un cavallo, però ecco, si è fatta sentire, ecco, la mancanza. Io l'ho sentita molto, l'ho provata, questa cosa mi ha provato veramente tanto. Senti, il cavallo non ha risentito, secondo te? Sì, il mio sì, di sicuro, perché purtroppo ha, diciamo che è un po' troppo forse affezionato, e si deprime quando viene lasciato solo. Se non ti vede, ad esempio, lui sente la nostalgia. Sente la nostalgia, sì. E per questo ti dicevo che è particolarmente umano, è lui veramente particolare nel suo essere. E all'inizio non mi voleva nemmeno vedere. Ti teneva il muso? Sì, sì, all'inizio sì. Però poi quando aveva capito che ritornavo tutti i giorni, che potevo tornare, c'erano degli orari stabiliti, non si poteva stare più di tre ore, in base ai cavalli, comunque a quanti cavalli si doveva montare. Però piano piano siamo ritornati comunque a quella che era la normalità, diciamo. Noi solo con la mascherina, stando un po' attenti al distanziamento, certamente. Però nel mondo, almeno del cavallo, si è abbastanza nella normalità, ecco. Rispettando quelle sono le norme. Certo, le norme, chiaramente, le distanziamenti, le mascherine, lavaggi delle mani, eccetera. Ma alla fine poi comunque, se è all'aria aperta, senza il cavallo. Sì, comunque non è una cosa particolarmente, non è un posto dove si... Vediamo con lo sguardo del poledro che è meraviglioso, devo dire, con quest'area di sfida. Quindi il cavallo ha risentito anche lui. Eh sì, poi anche della forma fisica ne hanno risentito tanto all'inizio. Perché chiaramente in quel periodo nessuno ne montava. Montare no, non si poteva montare, però portare fuori, un po' lavorare. Sì, però sì, certo, non è la stessa cosa, soprattutto per un cavallo abituato a fare le gare una settimana sì, una settimana no. Sempre stato in lavoro, comunque poi è come noi, ricominciare è stato difficile. Però all'inizio, infatti, le prime settimane, le prime gare, l'approccio è stato un po' come ricominciare un po' da capo. Ecco, però poi è tornato un po' tutta la normalità, almeno per ora. Insieme l'avete superata. Quindi, la gara che abbiamo visto lì, che è stata l'ultima prima del lockdown, quando hai ripreso a fare le gare? Abbiamo detto questo periodo di distanziamento, poi piano piano. Le prime gare sì, sono ricominciate intorno a, mi sembra, a giugno, così. All'inizio c'erano solo allenamenti e poi dopo hanno sbloccato di nuovo anche le gare. Quando c'è stata un po' più di riapertura. Comunque sì, di libertà, perché comunque nell'estate anche normalmente c'era più libertà, quindi riniziarono anche le gare. E all'inizio è stato un po' tosto. Un po' tosto sì, all'inizio sì, perché ero sempre stanca, era proprio la forma fisica, non ce l'avevo più. Anche comunque per la gara, comunque l'approccio alla gara era, insomma, l'inizio è stato un po' difficile. Si perde un po' il ritmo e le abitudini. Poi io avevo anche da fare l'esame di Stato, sì, di maturità. Sì, appunto, di maturità. Ho anche saltato qualche gara per quello, quindi anche quello. Mettiamoci anche quello. Un po' un'ansia totale. Nel conto. Però adesso, anche perché ci avviciniamo alla conclusione, voglio capire ancora una cosa. Sei iscritta, come ho detto all'inizio, all'Università, a Facoltà di Economia, da un anno. Come riesci, a parte ora le lezioni sono a distanza, no? Sì, sì, per ora sì. Come riesci a conciliare? Perché abbiamo visto che le ore di allenamento sono quotidiane e diverse ore, no? Eh, infatti è molto difficile. È molto difficile e infatti nel primo semestre, per i primi esami, è stato un po' un primo approccio, ecco, un po' approssimativo. Però la mattina montare presto, subito, e il pomeriggio studiare, così, cioè, si può mettere tutto insieme. Sì, perché comunque ce l'ho sempre fatta, anche per la scuola e poi soprattutto perché è quello che voglio fare, ecco, nel senso, è anche un po' la volontà di voler riuscire a fare, di riuscire a fare entrambe le cose. Tutto questo, tutti questi impegni, riesci a avere, ora non ce l'ha nessuno, la vita sociale, voglio dire, frequentare gli amici, eccetera, ora non ce l'ha nessuno, per cui sono a posto. Però riesci a ritagliare degli spazi anche per gli amici? Le mie amicizie tante sono dentro il mondo del cavallo, ecco, si sente anche dall'audio dei video, se li hai ascoltati, diciamo che si sente bene. Però sì, si riesce comunque a fare tutto, la sera comunque si può uscire, ci si vede gli amici, non è... Speriamo di tornare a una normalità. In un mondo normale, sì. Ora, voglio dire, non ci sono questi pericoli. Però sì, ci sono stati molti sacrifici, ecco, anche negli anni, però non mi hanno mai pesato più di tanto. Certo, le serate in discoteca sono state poche, perché se la mattina dovevo andare a montare alle sette, oppure avevo una gara, insomma, si rinuncia alle cose, però. Sì, sono delle rinunce senza rimpianti, no? Ma non sono nemmeno delle rinunce per me, perché comunque anche... Ma è una cosa che ti piace. Sì, perché ci sono delle priorità, ecco, nel senso, è una cosa che a me prende particolarmente, che diciamo faccio da tutta la vita, praticamente, e che veramente senza, non so, come sarei, ecco. Poi, come uno si realizza, e quelle scelte che poi uno fa fin da giovanissimo, abbiamo detto, e queste scelte poi ti portano a un certo tipo di vita. Non sono rinunce, no? Per alcuni che, ma preferiscono andare a uscire o andare in discoteca, sarebbero rinunce per te e la tua vita. Poi ognuno ha i propri hobby, nel senso, è iniziata come un hobby e è continuata come un impegno duraturo, ecco, però è bello. Per me è praticamente una vita. È certo, è certo. Io vorrei capire, per chiudere un po' la puntata e fare un sunto, abbiamo detto che monti a cavallo da quando avevi cinque anni. Dove vuoi arrivare, Esther? Eh, è una bella domanda. A me piacerebbe molto iniziare a lavorare con i cavalli e continuare a montare, continuare magari ad addestrare i puledri, oppure anche soltanto magari ad unire le mie passioni, quella che studio, economia e quello di montare a cavallo e di stare tra i cavalli. Beh, questo si vedrà nel futuro, ecco. Nel futuro non c'è una gara che vorresti fare. Ah, sì, nel breve futuro, sì. Ecco, perché sei andata un po' oltre dalle gare. Sì, nel breve futuro vorrei iniziare e fare quest'anno almeno, per quanto posso, finché studio, qualche gara internazionale. Iniziare un po' ad affacciarmi alle gare internazionali, sempre nelle vicinanze, per ora, e vedere un po' come va. Poi magari la vita ci stupisce, ecco. Ecco, da cosa nasce cosa, non si sa mai. Poi mi sembri una bella determinata. Sì, quello è sicuro. Quindi quando uno ha questo carattere, già così giovane, poi se chiaramente i risultati arrivano, cerca di fare sempre di più, non tanto per aggiudicarsi una gara, quanto per porsi delle sfide e migliorarsi. Sì, avere sempre degli obiettivi, ecco, quello è la prima cosa. Bene, io aspetto l'Umi dalla regia, come sempre, per capire un minuto, addirittura. In genere mi date i tre minuti, adesso abbiamo solo uno. Ah, va bene. Ah, i tre minuti. Tre minuti consueti, pensavo un minuto solo per chiudere. Quindi, tre minuti, abbiamo cercato di farci raccontare da Esther la sua storia, perché appunto sta avendo dei successi in queste gare. Lei ha proprio fatto tutti gli step fin da piccolina. Tutti gli step, passettino, passettino, per arrivare fino a dove è arrivata e chissà, chissà. Con qualche passo indietro, però, sì, andando poi sempre avanti. Ma i passi indietro, Esther, alcune volte servono per prendere la rincorsa, per andare avanti, no? Per prendere la rincorsa bisogna fare un passo indietro, per cui mettila sempre in quest'ottica. È sempre un motivo di crescita. Quindi, abbiamo visto queste immagini bellissime. Io vorrei chiudere, Leo, se ci fai rivedere il salto, con, non mi ricordo più il nome. E lui. Eccola. Eccola. Io vorrei chiudere questo appuntamento di Costume e Società con questa bellissima immagine, di questo volo e questa simbiosi veramente straordinaria fra due principesse che stanno volando. Eccole là. Guardate che bellezza. Beh, lei sicuramente è una principessa. Io la chiamo sempre principessa. E te lo stesso. Guarda, siete veramente bellissime. Esther, io ti ringrazio infinitamente per la disponibilità e anche perché ci hai fatto conoscere un po' meglio un mondo bello, affascinante. È ricco di passione. È un piacere. Ricco di passione. Per cui coltivate tutti la passione per i cavalli perché è veramente una cosa che arricchisce tanto. Sì, il rapporto con un animale, il rapporto con un'anima è proprio, secondo me, è importante. È una cosa che ti fa crescere emotivamente anche. Questa simbiosi è bella. Questa simbiosi, in questo caso tra l'amazzone e il cavallo. A prescindere da gare e tutto. Quella è forse l'ultima cosa, no? Sì, l'ultima. Decisamente l'ultima. A livello di importanza. Decisamente l'ultima. La prima è il poter dire che conosci il tuo cavallo e che sai che farebbe per te quello che ti faresti per lui. Perfetto. Questa è bellissima. E con questo chiudo dobbiamo ringraziare però il nonno che l'ha portata per la prima volta, l'ha avvicinata a questo mondo, la nonna che è, la segue così tanto e che l'aiuta. Poi Barbara e Fabio, chiaramente. Certo. Perché ti sostengono sempre i suoi genitori in questo percorso. Grazie di nuovo Esther. Sì, mille. Tornerai da noi perché ricomincerai a fare gare. e quindi tornerai da noi per raccontarci i tuoi successi. L'appuntamento è chiaramente giovedì prossimo, sempre con Costume e Società. Grazie per averci seguito. Grazie.